Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo. Allora, parto subito con la trasmissione di oggi, ricordandovi che domani è l'8 marzo, è una festività delle donne, ma io voglio parlare di qualcos'altro, nel senso che, vi ricordo come prendo le telefonate, noi come pagani politeisti siamo in realtà gli unici eredi, unici eredi, torno a ripetere, di quella che fu la tensione di vita che appartene al Veneto negli anni 70 e che va sotto il nome di lotta femminista, in realtà era quella lotta che aveva il compito di trasformare la legge da stupro in quanto offesa alla morale, in offesa alla persona, attentato alla persona, devastazione della persona, noi siamo gli unici ancora che fanno lavoro sociale e che possono rivendicare questo diritto, quella che fu in pratica tutte le manifestazioni del Veneto degli anni 70. Tutti gli altri, anche se hanno partecipato a quelle lotte, anche se hanno vissuto quelle lotte, non hanno il diritto di rivendicare niente. Pertanto, partendo da questo diritto che ci siamo guadagnati col sangue e che viene sputato da quelle persone che si dichiarano di destra, di sinistra, di centro, cicci e cocò, è un po' così e un po' cocò, io faccio questa trasmissione. Vi ricordo che le ragazze che sono all'interno del nostro discorso hanno deciso di fare la trasmissione il 21 marzo come primavera e come primavera chiamare a raccolta le forze della vita e le forze femministe o femminili. Bene, comincio la trasmissione di oggi, vi ricordo che sono meccanico, apprendista stragone e guardiano dell'anticristo e che è in questa veste che faccio questa trasmissione. L'articolo che vi sto leggendo e ve ne leggerò su una parte, è tratto dal Corriere della Sera del 2 giugno 1992. Allora, ripeto, un articolo del Corriere della Sera del 2 giugno 1992. Si intitola Nell'antica Roma si usava la pillola e per il parto in dolore c'era l'ascis. Washington. Chi ha detto che la pillola anticoncezionale è una conquista femminile ai tempi moderni? Secondo due scienziati americani, anche le antiche romane utilizzavano delle pastiglie per evitare bambini indesiderati. Il più antico anticoncezionale orale della storia era ricavato dal Silfio, un finocchio gigante coltivato sulle colline della Cerenaica e da secoli ormai estinto. Il Silfium, una pianta preziosissima, era ben conosciuta dal padre della medicina Ippocrate, anche se i suoi usi ginecologici vengono menzionati esplicitamente solo da Sorano di Efeso, un ginecologo alla moda fra le donne romane della fine del II secolo. Autore di un manuale di tecniche anticoncezionali, Sorano proponeva alle sue clienti alcuni metodi bizzarri, dagli aborti a raffica per ottenere la sterilità permanente allo starnuto dopo il rapporto per spedere lo sperma, più sicuro a suo dire il Silfio. A seconda della ricetta, il succo Cerenaico sarebbe servito a prevenire il concepimento o a provocare un aborto precoce, un po' come la pillola del giorno dopo. Difusissimo, secondo i due studiosi americani, Riedel ed Estes, all'epoca degli Antonini e dei Severi, l'uso della pillola romana finì però per perdersi durante il Basso Impero. Non potendo sperimentare sul Silfilo, i due ricercatori hanno usato nei loro test una serie di piante parenti della famiglia del Finocchio. Alcuni estratti hanno bloccato la fertilizzazione dell'uovolo, mentre altri ne hanno impedito l'impianto. Altrettanto stupefacente il fatto che già gli antichi romani utilizzassero l'ascis come un farmaco. Alcune tracce di un medicamento a base di questa droga sono state infatti rinvenute nell'intestino di una ragazza morta di parto circa 1700 anni fa, in epoca romana la cui tomba recentemente è venuta alla luce a Sat Sebes presso Gerusalemme. Secondo quanto ha comunicato a sovrintendenza israeliana, ai beni archeologici, da un cimitero familiare contenente i loculi di una quarantina di defunti, dieci di quali bambini sono emersi i resti di una giovane donna, l'età attribuiteli è di 14 anni, giacente a supine con lo scheletro di un feto giunto a maturità nel bacino in corrispondenza dell'area addominale. Gli studiosi hanno trovato una massa di sostanze organiche vegetali, fra cui ascis, usato per ridurre i dolori del travaglio da parto e demoralgia e per stimolare le contrazioni uterine. Questa era la medicina al tempo dei romani. Poi arrivarono quei delinquenti, assassini, criminali, mafiosi, farabuti che furono i cristiani e imposero alla donna di partorire con dolore, fare sesso solo per fare figli. Quest'infamia è arrivata col cristianesimo, col pazzo di Nazareth, col macellaio di Sodoma e Gomorra e quest'infamia, quest'infamia assoluta viene tollerata da tutte le donne di destra e di sinistra che si pittano di essere tanto buone, tanto consapevoli, tanto rispettose di chi stupra le donne. Ed è da vigliacche, da porche, da farabute, da delinquenti, da pezzo di merda. Perché il macellaio di Sodoma e Gomorra va trattato esattamente per quello che è il distruttore del divenire umano e della vita umana. Ebbene, vediamo un attimino questo macellaio assassino cosa ha portato alle donne, cosa ha portato alla vita sociale, perché a fin fine non è solo una questione di donne, è una questione di vita sociale. E leggiamoci un pezzo da La mela e il serpente dell'Armanda Guiducci, ve lo prendo dal crogiolo del male che vi ho già letto. Stupri, sangue, guerre, invasioni e lotte di religioni, barbari e cattolicesimo. Secoli d'Occidente hanno letteralmente plasmato la sua parte, la sua assegnazione femminile nel mondo. E un buon secolo di borghesia trionfante le ha dato la sua impronta uterina e ornamentale. Un maschio, che bellezza, femmina la primogenita, femmina l'altra e la terza, femmina ancora. Adesso è nato l'erede e guardava teneramente mia madre e mia madre fu redenta. Dopo che l'erede fu nato, un chiedi grandioso si aggiunge alla fisionomia di mia madre. Avendo generato il sesso opposto, il suo viso acquistò in sicurezza e nobiltà. Perfino oggi il viso di mia madre domani compirà tre quarti di secolo e festeggeremo il suo compleanno all'ombra della morte. Non è semplicemente disfatto dalle rughe. Un viso materno, impolente e tenero, sigillato dall'orgoglio di mio padre e della madre di mio padre e dei fratelli paterni e dell'intera scendenza maschile della nostra stirpe società e di lei stessa infine e il viso della madre di un uomo. Così la parola femmina col suo suono dall'alto in basso si impresse sopra di me come un marchio, il marchio sociale della subalternità. Incominciai a rosicchiare le unghie, col canimento selvaggio fino a farmi sanguinare e sempre immersa in quello stato d'animo ringhioso succhiavo inorridita e deliziata, il sangue che ne gocciolava. Me le intinsero una sostanza amara come il fiele, che si chiamava aloe, se ben ricordo, e io mordevo più a fondo e il sangue spillava più scuro e più rosso. Me le intinsero di tintura di odio. Non a caso, nei miei lunghi anni infantili l'ho chiamata tintura d'odio, acre e marrone, ma non così disgustosa. Alla fine mio padre giurò che me le avrebbe ficcata nella M puntata, puntata, puntata. Da allora non ho smesso questo vizio, nel quale gli psicanalisti rintracciano una rabbia del bambino per la mammella sottrata, una difficoltà nello svezzamento e insomma una richiesta d'amore protratta. Mentre le delicate pelli intorno all'unghia, più volte lacerate, si enfiavano, trovai al rancore un altro sfogo, nella disobbedienza totale e assoluta. Quasi risento i battiti protettivi del cuore, il furibondo senso della rabbia che si placa a stento alla vista dei miei genitori disperati, che si scambiano mutui occhiati di soccorso. Ed ecco, il corpo di mio padre incomincia a vivere. A quest'epoca per me le sue mani, dalle palme spesse e larghe, le dita grosse come canocci, calano staffilanti sulle mie gote. Interi giorni ne porto il marchio, cinque strisce rosse aperte mi scottano di rabbia e rinnovano l'insobordinazione. Non passa giorno che la mano massiccia non si schianti sul mio viso, fra le grida di paternità offesa. Io tengo il mento alzato, ridacchio persino. Ti ucciderò, grida a volte mio padre, ti massacrerò di botte. Mia madre in un angolo torce gli occhi gialli di qua e di là, fiata appena, quando è troppo tardi. Il ciclone ha già spezzato tutto dentro di me, ha lasciato mio padre ansante, la ammazzerò una volta o l'altra, ma poi si butta subito al collo di mio padre e geme. È perversa questa bambina, io non ho la forza di educarla. È un maschiaccio, geme mia madre, guardandomi come se non le appartenessi neppure. Una volta mi guardò fissa e aggiunse, ti devo aver scambiato nella culla, figlia mia. È un maschiaccio, ma io la dormirò con le fruste, esclama mio padre. E le palme massicce delle sue mani pesanti si gonfiano scarlate e fischiano nell'aria e, calando da un'altezza scottante, occupano il mio intero viso. Le palpebre gonfie di pungente rossore invadono l'intera stanza e il pollice rimbalza sul soffitto con un tuono assordante. Il mignolo gigantesco picchia sul pavimento che vibra, mentre io mi piego sotto la raffica in giù, trascinando le ginocchia contro lo spigolo del mignolo di mio padre. E quello che vi ho appena letto è niente rispetto a quello che gli uomini e le donne hanno subito. Hanno subito perché? Perché dal 335 è arrivata sulla terra l'inferno. L'inferno si è calato fra gli esseri umani e ne ha costruito un divenire infame. Questo inferno, portato dal pazzo di Nazareth, dal macellaio di Sodome e Gomorra e da ogni cristiano assassino criminale mafioso, perché essere cristiani significa essere assassini criminali mafiosi, ha attraversato l'intera umanità. Questo inferno infame ha toccato ogni singola persona, ogni singolo bambino e ha attraversato l'intera storia dell'umanità. Non basta leggere cosa è successo, nessuno è in grado di interiorizzare a sufficienza ciò che i cristiani hanno fatto alla vita umana. Hanno trasformato l'intera umanità in un campo di sterminio, in un inferno massacratore. Macellaia e assassini ad immagine e somiglianza del loro Dio, macellaia e assassini hanno distrutto il divenire e la costruzione degli uomini. e vi leggo adesso dalla Repubblica del 4 marzo 2002, qualche giorno fa, 4 marzo 2002, oggi è il 7 marzo, vi ricordo. È l'ultima ferita che la modernità infligge alla Chiesa. Delitti e perversioni che per secoli sono stati vissuti e trattati in silenzio dietro le quinte. Sì, ma non quelle dei bambini però. Con i responsabili quasi sempre impuniti e costretti ad un tranquillo trasferimento e le vittime minacciate di non aprire bocca e lasciate in preda pesanti complessi di colpa, vengono oggi portati alla luce sotto la pressione di un'opinione pubblica che chiede giustizia e soprattutto domanda conto a principi della Chiesa che si ritenevano intoccabili dalle loro decisioni. Per Giovanni Paolo II le notizie che arrivano da varie parti del mondo sono un duro colpo. Si sapeva già delle disavventure della Chiesa americana costretta a pagare centinaia di migliaia di milioni di dollari per cause di risarcimento altrettanto amara era stata la vicenda del cardinale di Vienna Groer, obbligato a lasciare l'incarico sotto la pressione sdegnata dei cattolici austriaci. Ma recentemente una pugnalata gli è venuta dalla natia Polonia dove il vescovo di Poznan, già impegnato nella segretaria di Stato Vaticana fra il 1976 e l'83 è stato fatto segno di accuse pubbliche e continue per i suoi rapporti troppo insistenti o almeno considerati tali con gli allievi del suo seminario. Due ispettori vaticani sono stati già sul posto per indagare. Bisogna dare atto a Papa Voitila di esserci deciso in un primo passo impegnativo per voltare pagina e probabilmente per non pagare le vittime, aggiungo io, anche perché Voitila è un vigliaco proprio come scelta emozionale, proprio come scelta di persona. Un nuovo documento vaticano varato nel 2001 sotto la supervisione del cardinale Ratzinger avvoca alla Santa Sede ogni informazione su episodi di abuso sessuale da parte del clero. Il Papa esige che la notizia criminis, per dirla in gergo giuridico, arrivi subito alle stanze centrali della Chiesa. Ma non basta. Istruzioni precise sono state diramate ai vescovi. Se anche c'è solo il fumo di un sospetto o il circolare di voci, i responsabili della diocesi hanno il dovere di aprire immediatamente un'indagine. E se vengono raccolte prove sono obbligati ad aprire seduta stante un procedimento canonico, un vero e proprio processo con istanze di appello in Vaticano. Inoltre la prescrizione varrà soltanto a partire dal raggiungimento del 18esimo anno di età della vittima. Nelle intenzioni del Pontefice questo modo di agire dovrebbe stroncare quel clima di omertà e di falsa tutela del buon nome della Chiesa che per troppo tempo ha permesso la perpetuazione di violenze. È presto per verificare l'efficienza delle nuove misure del nuovo documento Vaticano. Resta però una falla grave e questa è l'infamità di cui si macchia Voitila da farabuto assassino e criminale qual è. Nulla si dice dell'eventuale obbligo dei vescovi di avvertire le autorità giudiziarie e civili degli abusi sessuali commessi dal clero. Il che significa che Voitila ha una sola intenzione, continuare a nascondere le porcate che lui e i suoi coliti assassini hanno fatto da 1600 anni. A Boston, riportano i giornali statunitensi, la diocesi avrebbe cominciato a farlo. In Francia il vescovo di Bajer è stato invece condannato a tre mesi di carcere qualcondizionale per non aver denunciato alla magistratura un suo prete che ha confesso di abusi sessuali. In Polonia la prima reazione della gerarchia ecclesiastica alle rivelazioni sul vescovo di Pozna è stata di accusare la stampa, un classico, per il Papa è un problema serio. È un problema serio per i bambini che vengono stuprati da Voitila. Questo è il problema serio. Un inferno costruito dai cristiani per gli esseri umani. Ogni uomo che si chiama cristiano è un vigliacco, un assassino, un porco, un mafioso, un delinquente. È responsabile di tutto questo. Ebbene, quando arrivarono i cristiani, distrussero ogni struttura della vita sociale, annientarono ogni desiderio degli uomini, annientarono ogni passione. Hanno costruito un inferno nella vita civile degli individui. Là dove c'era la possibilità di costruire una civiltà e di costruire una vita degna, gli adoratori del criminale assassino, il Gesù di Nazare, quel vigliacco, farabuto, delinquente, pezzo di merda, che dovrà prima o dopo essere processato dai tribunali civili per i delitti contro l'umanità, per lo stupro dei bambini, per tutte le porcate che quel Gesù di Nazare ha fatto. Dovrà essere processato prima o dopo. Ebbene, nonostante questo, nonostante tutto questo, nonostante i cristiani avessero costruito questo campo di sterminio su tutto il pianeta, gli dèi continuavano ad agire e agivano dal profondo del cuore degli esseri umani. Dal sentiero d'oro parliamo di Diana. Diana è il principio femminile della vita. Diana è la luce del giorno quando abbaglia chi si affaccia alla vita. Se Diana è dimenticata, è identificata col bosco e con gli animali femminili del bosco, è solo per una lettura molto approssimativa. La vita avvolge l'intero pianeta e il principio femminile ne è l'essenza fondamentale. Il principio femminile deve sostenere il continuo scontro col tentativo di dominio da parte del principio maschile. Il lato femminile del principio maschile vuole dominare e soggiogare il principio femminile per appropriarsi, costringendo a soccombere il principio maschile. Il lato femminile del principio maschile si trovò impotente ad esprimersi, in quanto veniva isolato. Si trovò allora ad allearsi al potere di avere, il quale, nella necessità di dominare il sistema sociale umano, trovò in esso un suo formidabile alleato. La donna venne relegata nella casa, serva di figli e mariti, costretta a generare figli, dei quali era obbligata a prendersi cura, mentre l'uomo veniva liberato da questo obbligo giuridico e morale in quanto gestore del comando sociale. Diana è il giorno, lo splendore, ogni giorno, dopo ogni notte. Diana è il cielo da cui la vita proviene, come il regalo del sole. Diana è il principio femminile della luce del giorno, come giovane rappresenta quello maschile. Giove è il cielo come essere in sé. Diana è la tensione del principio femminile che spinge per non essere soggiogato e costretto. Diana è la libertà dell'essere femminile, dalle costruzioni del principio maschile trasformatosi in comando sociale, soccombendo al proprio lato femminile. La psicologia dà una lettura storico-antropologica dei comportamenti attraverso i quali Diana prende forma, sostanza e coscienza, ma solo il veggente, alterando la percezione, può scorgere l'enormità dell'essere chiamato Diana, o qualunque altro nome in altre culture. Quest'essere è legato ad ogni essere femminile, di qualunque specie, e attraverso le linee di tensione riversa e riceve energia vitale. Riversa e riceve energia, non come un semplice ricevitore, ma come coscienza, in grado di determinare direzione, qualità e quantità di energia vitale, sia in entrata che in uscita. Quest'essere, come tutti gli esseri, tende ad espandere se stesso attraverso l'espansione del principio di cui è sintesi e sostanza. Diana è in guardia affinché il principio femminile non venga mai messo in difficoltà e nello stesso tempo è pronta a fornire sostegno affinché ogni essere che può costruire a liberare tale principio dalle condizioni possa essere in qualche modo aiutato. Diana è pronta a cogliere ogni centimetro cubo di opportunità per sviluppare il principio femminile contro ogni costrizione. Dove sta la crudeltà del rito di Bosco di Nemi? La crudeltà sta nel cuore degli occhi di chi guarda e non comprende lo svolgersi degli eventi. Il cervo più forte acquista il diritto di perpetuare il proprio DNA con altre femmine. Il femminile è il maschio, deve conquistarsi il diritto. Certamente questo è crudele per gli adoratori del macellaio di Sodome Gomorra che fanno della compravendita dell'essere umano o denominato donna uno dei dogmi del proprio assoggettamento al loro Dio. Dio maschio è padrone. Come il cervo maschio ambisce all'area in più grande così il maschio che ambisce ad occupare quella posizione se la deve conquistare e deve saperla mantenere. Un sapere impossibile da comprendere per gli adoratori del macellaio di Sodome Gomorra le cui posizioni sociali vengono acquisite leccando i piedi al più forte e costringendo il più debole a strisciare. Uccidere non è atto di crudeltà. La crudeltà è costringere qualcuno a vivere entro muri ristrette costringerlo a fare qualche cosa contro il suo volere costringerlo a diventare cieco davanti all'esistente costringerlo a mendicare la propria sopravvivenza nel quotidiano per interessi e scopi che non hanno a che vedere con la vita ma legati a dispensare pulsioni di morte e d'energiavità stagnata. La lotta per la vita non è crudeltà. È. Così l'essere si conquista il posto al centro del bosco sacro di Nemi svolge un combattimento e diventa un nodo il nodo attraverso lui transiteranno tutte le linee di tensione di quel bosco Diana la furia dell'esistenza lo attraversa e uscendone riceverà la modificazione che quell'essere gli imporrà egli è lo stregone del bosco di Nemi e il ramo d'oro è il suo divenire nell'eternità il ramo d'oro piantato per trasformarlo in un albero egli pianta se stesso per trasformarsi in un essere eterno il suo predecessore aspettava con ansia il momento nel quale sarà distrutto da un pretendente degno di quel posto egli metterà in atto tutta la sua astuzia, la sua esperienza, la sua energia per battere il pretendente ma non ha lo scopo di salvare la propria esistenza ma ha lo scopo di selezionare l'essere umano più degno per sostituirlo egli sa che dovrà morire per mano di un pretendente egli sa che la morte del corpo fisico lo trasformerà in nascita del corpo luminoso egli sa che la sua morte sarà immediata ma nel morire vuole fare l'ultimo regalo a Diana chi lo ucciderà sarà effettivamente un essere umano più forte di lui sarà effettivamente colui che attraversato da Diana renderà Costei più forte sarà effettivamente colui che attraverso Diana si trasformerà in albero del proprio divenire Diana non Artemide protegge gli schiavi o meglio impedisce che la schiavitù si trasferisca dalle catene ai polsi al cervello dalla costruzione materiale all'adesione soggettiva dello schiavo al proprio stato con l'abbandono di se stesso a tale condizioni Diana è libertà la libertà dell'essere umano femminile nella gestione del proprio sesso e della propria persona la libertà del rapresso lungo la via della gestione di se stesso la libertà dell'essere umano maschio di gestire se stesso senza essere costretto ad aderire a schemi o a dogmi perché Diana odia chi possiede mani onde soddisfare i propri bisogni incapace di assumersi la responsabilità del proprio divenire costui sottrae la vita ad altre mani se ne compiace chiama questo potere balle è solo possesso di catene attraverso le quali costringe ad essere della propria specie a soddisfare i propri bisogni senza dare nulla in cambio è potere di avere ottenuto distruggendo prima se stessi e poi l'oggettività nella quale si vive la feroce di Diana nel lato di ribellione del rapresso quando rivendica libertà nei confronti dell'oppressore quest'atto non ha nulla di nobile né la sua espressione assoluta tra tutte le sue finalità è violento, determinato, assoluto, crudele l'atto stesso deve appagare tutte le sofferenze che l'oppressore ha inferto all'oppresso della schiavitù l'oppressore ha fatto un'arte della mediazione per la coercizione per l'uscita dall'oppressione non esiste un'arte ma esistono atti violenti e feroci che hanno il volto e gli occhi di Diana costruire una morale sulla bellezza e la necessità dell'oppressione è di uno squallore tale che solo il fare degli adoratori del macellario di Sodome e Gomorra potevano concepire la forza di Diana si espande oltre ogni fede e oltre ogni credo col concilio di Ancirre in realtà è ditto di Carlo Magno la vita viene messa al bando chi respira la libertà viene macellato nonostante questo continuano le cavalcate al fianco di Diana la libertà sparisce del tutto soltanto quando l'essere umano muore finché un barlume di vita attraverso un corpo Diana offre la propria energia a coloro che nell'ultimo rantolo raccolgono la propria volontà per artigliare al collo il proprio oppressore Diana cavalca silenziosa nella notte oppure si libera nel cielo stellato sopra un legno di nocciolo o semplicemente trasportata dal vento perché lei è la luce nelle tenebre in cui il macellaio di Sodome e Gomorra e il vigliaco di Nazareth avrebbero voluto precipitare l'umanità Diana è una forza dell'essere natura il principio femminile della vita Diana è essenzialmente una coscienza formatasi in relazione alle necessità dell'essere umano il suo bisogno di cacciare tutte quelle forze concorrenti alla costruzione dell'oppressione fra gli esseri della natura il potere di avere è una caratteristica dell'essere umano il bisogno di libertà per poter costruire il potere di essere è un bisogno dell'essere umano il principio femminile attraversa tutti gli esseri della natura la congiunzione al bisogno di libertà è prettamente umana anche perché il potere di avere dell'essere umano saccheggia la natura Diana è alimentata da quanto di femminile presente in natura ma diventa più forte ogni volta che un cammino verso la libertà viene intrapreso da un essere umano ancora di più quando i processi di trasformazione dei sistemi sociali umani imboccano sentieri atti a rimuovere le catene e ad estendere le ali della percezione a Diana non importa se le vie intraprese sono processi lenti e calcolati o concausati da situazioni particolari o ancora da feroci atti di violenza questi appartengono al libero arbitro delle scelte umane all'uso della loro volontà Diana cede e riceve energia vitale non distribuisce giudizi morali o comportamentali prerogativa fondamentale del macellale Solme Gomorra e dei suoi servi quando devono appropriarsi e mantenere la propria azione del lavoro delle mani dei loro schiavi e mentre l'orrore cristiano calava sugli esseri umani le streghe cominciavano a volare sui bastoni di nocciolo e sulle loro scope ebbene costruire l'inferno sulla terra fu ciò che fecero i cristiani ma c'è qualcosa che i cristiani non sapevano ed è sono l'insieme delle leggi che appartengono alla vita la vita vince sempre sempre vince la vita magari ci mette anche duemila anni ma la vita vince sempre e c'è sempre qualcuno capace di scendere nell'inferno non solo nell'inferno che hanno costruito i cristiani ma anche nel più profondo inferno del proprio cuore della propria percezione o della propria vita ebbene quando uno stragone scende nel proprio inferno non scende nel proprio inferno a mani vuote ma scende attrezzato scende nel proprio inferno attrezzato per affrontarlo e c'è uno stragone che è entrato nel suo inferno noi ce lo prendiamo adesso dalla dizionario di mitologia e parliamo di questo stragone si chiamava Orfeo e ci dice il dizionario per primo ricorderemo Orfeo che un tempo Calliope giacendo in amore col traccio e agro si dice partorì presso Pimpleo un monte della Pieria sacro alle muse raccontano che gli eroi col suono dei suoi canti incantasse le due rocce dei monti e le correnti dei fiumi Euripide dice che Orfeo al suono magico della cetra attraeva le piante e le bestie feroci Apollonio di Rodio e Apollodoro raccontano che gareggiò nel canto con le sirene quando gli argonauti con la nave Argo arrivarono nel tratto di mare abitato dalle sirene Orfeo riuscì a vincerle nel canto trattenendo così gli uomini che volevo gettarsi in mare attratti dal loro canto ebbene questo stregone era attrezzato per affrontare l'inferno e lo affrontò l'inferno della vita quando l'inferno gli portò via ciò che aveva esattamente come i cristiani ci portavano via la vita non era un inferno vero e proprio ma egli sapeva scendere dentro se stesso ebbene racconta Orfeo sposò Euripide figlia di Nereo ed Oride quando su moglie Euridice scusate Euridice sposò Euridice morì per morso di un serpente Orfeo scese nell'Ade sperando di riportarla in vita e convinse Plutone a lasciarla tornare il Dio promise di farlo se Orfeo durante il cammino non si fosse voltato prima di arrivare alla sua casa ma Orfeo di Fidente si volse a guardare la moglie così ella dovette tornare giù ebbene in tutta la vita nonostante l'orrore che i cristiani hanno imposto agli esseri umani c'è sempre uno stragone capace di entrare nell'inferno e di tornare fuori dagli inferni non esiste un inferno assoluto non esiste una distruzione si racconta che ogni stragone ogni apprendista stragone abbia vissuto in fondo il proprio inferno e si racconta che da questo inferno sia uscito fuori per costruire la vita ebbene io voglio raccontarvi una storia voglio raccontarvi una storia perché sappiate che Orfeo ha aiutato anch'esso a riportare la vita fuori dall'inferno in cui i cristiani l'hanno cacciata bene vi manderò una musica vi manderò l'ouverture di un'opera in cui Orfeo va all'inferno e torna dall'inferno cerca di tornare all'inferno che un euridice non ci riesce ma mentre all'inferno gli dèi cantano e danzano perché questo perché quando uno stregone un apprendista stregone arriva nell'inferno certo si sente una merda è messo in condizioni che li crolla il mondo non ha più legami non ha più niente sembra che tutto il mondo sia finito l'apprendista stregone sembra quasi morto ma in quel momento gli dèi stanno danzando perché sanno che sta nascendo un nuovo stregone ebbene questo è il viaggio di Orfeo all'inferno e fu scritta questa musica in un momento in cui un altro inferno stava calando quali manifestazioni dei cristiani però le forze della vita stavano nascendo e gli dèi stavano danzando ed è con felicità che vi mando questo pezzo perché descrive effettivamente lo stato d'animo ascoltate e gli dèi dissero Orfeo sei caduto nella merda e adesso prova ad uscire dalla merda e così dicono gli dèi ad ogni persona che cerca di prendersi nella propria mano la responsabilità della propria vita c'è sempre un momento in cui per farlo si deve affrontare l'inferno costruito dai cristiani un inferno che serve per costringere gli esseri umani in ginocchio sottomessi e così quegli esseri umani diventano rabbiosi e feroci per sottomettere chiunque tenti di costruire un attimo di libertà però di una soffia nel cuore degli uomini però gli dèi continuano la loro danza e continuano a festeggiare ogni essere umano che ricostruisce la libertà per uscire dall'orrore ossessivo dei cattolici pertanto gli dèi aspettano aspettano sempre che un'altra persona vada all'inferno e ricostruisca la propria vita pertanto quello che è successo ad Orfeo è accaduto a ogni singolo essere umano che affrontava la libertà e ogni singolo essere umano che entrava nell'inferno e che usciva dall'inferno costruito dai cattolici portava con sé il suo spirito di vendetta la vendetta la nemesi dei pagani non è la stessa cosa ai cristiani per i cristiani vendetta significa massacro genocidio distruzione annientamento per un pagano nemesi vendetta è quello che tu hai fatto a me non lo farai mai più a nessuno per quanto io potrò per quanto io avrò forza gli insulti le offese le infamie i massacri che tu hai fatto a me non li farai mai più a nessuno e visto che un'amica me lo ha chiesto ve lo mando perché ciò che è successo io voglio vendetta e la vendetta è quello che è successo non deve mai più accadere domani 8 marzo 2002 un 8 marzo di molti anni fa alcune donne che dovevano partecipare a uno sciopero vennero chiuse a chiave dentro la fabbrica e bruciarono vive a Ghirindiri nello scorso anno poco prima altre donne sono state chiuse a chiave in dormitorio e sono bruciate vive a me non interessa che siano bruciate o meno mi interessa che qualche figlio di puttana si sia arrogato il diritto di chiuderle a chiave di trasformarle in oggetti di possesso ebbene che gli dèi proteggano ogni essere umano e ogni essere umano femminile che va a costruire la libertà degli uomini e la libertà per se stesso per tutte quelle donne che hanno vissuto dei benefici che da queste donne hanno tratto e che si arrogano il diritto di sputare merda io auguro che quella merda gli vada di traverso perché se è vero che la libertà è un patrimonio degli esseri umani è altrettanto vero che troppi figli di puttana ne beneficiano sputando merda su chi tenta di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza che gli dèi osservano e che gli dèi siano al nostro fianco ciao a tutti Claudio Simeoni meccanico apprendista stragone guardiano dell'anticristo ciao